I fari. Un'immagine incantata che raffigura le leggende e i misteri che circondano i fari. La scena è ambientata in una notte di luna piena, con il mare calmo che riflette la luce argentea. In primo piano, un antico faro si erge su un'isoletta isolata. La torre del faro ha un aspetto gotico e misterioso, con dettagli architettonici intricati e finestre a vetrate colorate che sprigionano una luce fioca e suggestiva. Solitudine e isolamento. I fari sono spesso situati in luoghi remoti, come scogliere, isole o promontori. Questa solitudine e isolamento possono creare un'atmosfera suggestiva e misteriosa intorno al faro, facendolo sembrare un luogo fuori dal tempo e dallo spazio. Legami con il mare e la navigazione. I fari sono stati storicamente utilizzati per guidare le imbarcazioni nella notte o per segnalare pericoli marittimi lungo la costa. Di conseguenza, molte leggende e racconti sui fari si concentrano su naviganti, marinai, pirati o naufragi, aggiungendo un elemento di avventura o pericolo alla storia. Simbolismo. I fari spesso sono considerati simboli di speranza, orientamento e sicurezza. Sono come una luce nel buio che guida i viaggiatori verso casa o li avverte dei pericoli. Questo simbolismo può essere riflesso nelle leggende e nei racconti, in cui il faro può rappresentare la salvezza, la protezione o l'illuminazione. Storie d'amore o perdute. Le leggende sui fari possono spesso includere storie d'amore romantiche o tragiche. L'isolamento e la solitudine dei fari possono fornire un contesto ideale per narrare storie di amore proibito, amanti separati o destini tragici, aggiungendo un elemento emotivo alla narrazione.